tanti auguri guglielmi confusale fondador chiavassa uron zede zodia bruschelli vittorino piras villana mereu sio pascale fenu zinzula e lomanto cassandra la clodia la clodia scusate chiara e spartano la clodia topalli e di ricorsa questi sono cavalli dell'ultima corsa vita le fornaci chiamo chiamo Se forzate aiuta a scendere un pochino, dico. Tanti agudi, completai puntato, uno, eccoli. Poi il segnale molto importante dall'interno, tanti agudi, infatti molto bene, con Firas, con Vittorino che spira in vantaggio, poi la ricorta per Sparta con la Corte, che è terzo in accontato, il presso in metà del fronte, con la città, 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 con la città. ... 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 gli effetti topalli abbastanza nettamente tutti infangati poi dopo vi metterò tutti i filmati insieme a casa lontano vi saluta ripeto vice topalli con spartola floria secondo vittorino stefolo pilast e terzo zodiac con enrico bruschelli alla prossima